Mi sono sentito spesso ripetere questa domanda. Non hai paura che il personaggio di Ciro Di Marzio sia troppo ingombrante nella tua carriera di attore? Ho sempre risposto accennando un sorriso, perché ho pensato di poter rivolgere la stessa domanda ad un attore che per dieci anni ha portato in scena l'Amleto di Shakespeare o il Caligola di Camus. Affrontare questi personaggi a seconda dal punto di vista dal quale li si osservi è come scalare una vetta insormontabile o sprofondare in un abisso senza fondo. Per me Ciro Di Marzio è un personaggio totale, ha la dignità di questi grandi protagonisti della letteratura teatrale. È un personaggio complesso, conflittuale. E sì, il male assoluto, il gesto efferato della violenza, ma è anche la nobiltà del sacrificio, è anche la tenerezza di una carezza. Io in tutti questi anni di viaggio, di percorso fatto spalla a spalla con questo essere umano non ho mai smesso di pensare a lui, di interrogarlo come fosse un oracolo nero, di sognarlo e di averne l'incubo. E questa ossessione che io ho prodotto intorno a questo personaggio mi ha fatto pensare ad infinite storie possibili che potessero ampliarne il racconto, che potessero indagarne l'esistenza. Una di queste storie è diventata il desiderio di un film, però in un'impresa del genere c'è bisogno della follia di altri uomini che la sostengano, che la accompagnino. E questo progetto, che tra poco ci porterà sul set, vede la partecipazione colposa di Riccardo Tozzi, di Nicola Maccanico, di Nils Hartmann, rispettivamente Kat Leia, Vision e Sky, che hanno sentito la vertigine di un grande racconto, che hanno sentito l'innamoramento verso questo personaggio e il desiderio anche di rispondere ad un'istanza del pubblico che ne ha ancora sete. Io mi auguro che quello che si vedrà tra poco al cinema possa riscaldare il cuore, possa far riflettere, possa creare anche dei turbamenti, perché ovviamente mettiamo in scena il racconto di un uomo ambiguo, il racconto di un uomo violento, ma sicuramente il racconto di una grande umanità. E soprattutto andremo a mettere in scena il percorso di un essere umano che sa benissimo quanto l'immortalità non sia un dono, ma una condanna.